Combatti! Hai conquistato la prima posizione! Perpettivamente! 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 Che razza di diavoleria è mai questa? Nessun guerriero ha mai trionfato in così tante delle mie arene. Possiamo di forse qualche dote nascosta. Non mi importa. Adesso assaggerai il boccone amaro della sconfitta. Hai conquistato la prima posizione. Sei in prima posizione a parimento. La sconfitta è la sconfitta. 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 A presto! Eccellente! Re-plag alla fine! Rigenerazione! Hai vinto! Rigenerazione! 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 Un oreι al vettore! V Audację! Tutti il vettore! своей pupite se 만들어i. Rigenerazione! Grazie a tutti 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 Cinque minuti alla fine Eccellente Grazie a tutti Eccellente Grazie a tutti 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 Eccellente Un minuto Un minuto alla fine Grazie a tutti 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 Grazie a tutti